Buongiorno ragazzi, sto per entrare un gruppo musicale d'Aullo, composto da personaggi fantastici strappaccaveli. Vi presento il partitista Leonardo Camisani. Buongiorno, Piero Lapresti. Applausi. 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 Signori e signori, alla voce, il pittino, il più grande di tutti, Stefano Gliamori. Signori e signori, Stefano Gliamori, il PND, buon Natale a tutti. Grazie. Primaria. Grazie. Tutti questi anni, smetto di guardarti, ora ancora vuole la merda, finisco di caspire, non finisci di stupire, come non dovessi mai, con la mare. Sì, ma quando è il rima satpiente? Sì. Vole. Con quel nome da straniero Da che sempre sta da solo E non può modificare Perché Tu sei Tu sei La cosa è tanta gente Tu sei Tu sei E non sei stata E sempre Da che Mi ricordo Mi sento Ti vedeva Ma in E Con l'acceleratore Mi rendita Mi restituisce Dopo 30 anni un giorno Quanto il vento E sempre a me Vedi fuori sempre tu Con quel nome da straniero Da che riesce a stare so Ma non può non deve più E ti Tu sei Tu sei E che c'è E che cosa è stato L'acceleratore Io mi ricordo Io non mi rit 750 E quindi ho la caccia E se ne ho la caccia E mi racconta E mi racconta Mi racconta Dando grinta sulla verità E mi legai un altro giorno In cui mi sembra tutto fermo Tutto si trasforma Tutto si conferma La letta scingi l'orgoglio Come a dirmi io ci sono Come a dirmi sarò sempre qua Perché io Tu sei lei Tu sei lei E così tratta C'è di te Tu sei lei Tu sei lei E così tratta C'è di te E adesso te lo Ci ho fatto rinforzare Qualcosa di sicuro Per te Tu sei lei Tu sei lei Come sei E di te Ma mie 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 Grazie a tutti.